la cantante ha avuto parole non tenere nei confronti del collega che ha rischiato di essere squalificato da sanremo 2022 donatella rettore è pronta a tornare dopo 28 anni di assenza in gara al festival di sanremo alla kermes barcherà con il brano chimica intervistata dal corriere della sera l'artista ha riservato una stoccata affilatissima al collega gianni morandi pure lui tornerà in gara nel concorso canoro con apri tutte le porte che ha rischiato grosso nei giorni scorsi per sbaglio ha diffuso il suo brano sul web non appena se ne è accorto lo ha cancellato ma ormai il danno era fatto la rai ha chiuso un occhio errore tecnico dunque niente squalifica secondo la rettore però in un simile contesto e in una simile situazione l'eliminazione non sarebbe stata sbagliata sul discorso relativo al caos che ha generato morandi pubblicando erroneamente il suo brano in rete la rettore ci è arrivata parlando di platone esatto il filosofo greco ma cosa ci azzeccano sanremo morandi la rettore e platone semplice la cantante è una lettrice dei testi del pensatore classico non tutti sanno che io leggo shakespeare platone anzi platone è la vera strada che ho sempre seguito per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni se io faccio un post su facebook o instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza e che invece non ha agito di conseguenza per caso il riferimento di donatella era al caso gianni morandi assolutamente sì e infatti è lei stessa a sottolinearlo al corsiera non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a sanremo e poi ho sbagliato scusatemi sono uno sbadato e cose così ma dai e allora con affetto dico morandi ti devi ritirare è ancora ma bisogna essere coerenti io a modo mio lo sono sempre stata un'altra stoccata l'ha lanciata ai cugini di campagna che da mesi tra il serio e il faceto accusano i maneskin di averli copiati nel modo di vestire anche lei vedendo qualcuna crede di essere stata copiata sì ma adesso non mi faccia fare come i cugini di campagna se qualcuna oggi si veste come mi vestivo io sarà sicuramente un caso e non perché mi sta copiando però una cosa mi vanto di averla fatta